Posso dire che sta la mangiare, ti portavo un cibo proprio enorme, da poco che sta cominciando a mangiare l'hamburger, però c'è ancora molte... Eh, perché qua arriva, arriva un pasto... Allora, io faccio quello che riesco a fare, perché non so, a volte sopra a sé le faccio ma se si va in... che rifiuta il modo... Lui prende qualche farmaco o... No, lui prende, perché ha avuto ogni tanto i risori di agitazione, per il mio letto, per il mio raggio di mamma. Con alcune cose, che in un periodo, quando ha fatto 18 anni, più dello sbalzo ormonale, non vi dico che abbiamo passato solo al centro, lo devono mantenere, perché è sempre stato tranquillissimo, bambino, è tranquillo come carattere, non ho mai stato... Adesso, diciamo, si fa queste cose, ma non verso gli altri, questo è il problema, non c'è, verso se stesso, tipo... Cose... Eh, anche le pericine, non lo voglio dire niente, però alcune fobie, tipo le cose visti, oppure se si parlava di violenizi, la parola di renzo... Eh, però avuto dei momenti che a moro è diverso, crescendo l'ha elaborato, però avuto dei piccoli, diciamo, un po' così, e quindi in seguito a questo le hanno dato poi questi medicinali. Quindi, che è giusto, perché altri medicinali stanno male, un po' così, facciamo questo, facciamo questo, ovviamente, io sento solo a casa, perché sono separata, io su due, me lo vedo tutto io, quindi diventa pesante, a volte io, molte volte, la secondo che faccio, è inutile, lo pesante, voi ce la seguo, se insistete troppo, quello va contro. Eh, quindi, c'è, mi ha bisogno delle cuffie, si la fa mi so rilassate, si, l'isola, lo so, eh, non è tanto buco, però è inutile che io lo forzo. Allora, lui facendo un'attività, perché io che posso fare, io so, diciamo, senta da sola, devo fare una visita medica per me, perché devo portare a lui, quindi il psicologico mi sentiva lezioni, perché lui era molto bravo, ha fatto anche l'esame, bravo, ovviamente, quella di tu c'è vicino, però lui diceva tutto, però sotto forma di domanda, e lui dice tutto, si è nella memoria di febbra, ha fatto anche un bel esame, però ovviamente, se lo mettevano là, e poi questo si annoiava. No, ha fatto solo il Don Milani, Don Milani artistico, artistico, multimediale, perché lui piace molto fare le foto, quindi la fotografia, lui l'appassiona tanto, quindi sono tutte delle potenzialità, che lui dovrebbe esprimere, a casa, che fai? Però, c'è questa pandemia, ma, e tu, no, domenica, c'è sempre il problema, c'è, non c'è, non tanto, rispetto a delle cose, ovviamente, eh, diciamo, si, in esclusiva, eh, no, era abbastanza gestibile, però adesso, molto più autonoma, lo devo dire, qualche parola dice, si fa capire rispetto a prima, Sì, 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 si, mamma mia, era bellissima, è biondo, sei scurito, però adesso, ah, sì, scusa, No, ho fatto il presto, un anno fa, 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 Ha fatto il presto, un anno fa? sei stanco di perdere a qualsiasi videogioco stanco dei tuoi amici che continuano a prendere non c'è una definizione si chiama disturbo in particolare c'è un disturbo relazionale disturbo diciamo non capi? autismo vero e proprio loro scrivono autismo c'è un caso grave con fobie ma lui mi mancao di seguire il fabbico c'è chi ti si va a prendere lui pesa mi abbraccia e fa male questo è il mio abbraccio io non lo potrei fare io non lo vado ma non lo vado io non lo vado a prendere io non lo vado a prendere parante come stai trattando? risponde? cosa hai fatto ieri? lui si può scavare lunghe non lo vado a prendere per prendere ieri ho perso due anni in terapia due anni lo vado a prendere il 2011 circa da dieci non lo so non lo so non lo so se ti senti molto male Tu sei stanco di perdere a qualsiasi videogioco, stanco dei tuoi amici che continuano a prenderti in gioco, non sei il tuo, sei il tuo, sei il tuo, sei il tuo, ciò che fa per te è il tuo, inizialmente me mi voleva verano, perché l'allenante aveva un gusto in, un sapore indescrivibile, ma non credevo avrebbe contenuto a migliorare anche la mia esperienza nel game. Ecco ma poi ho cominciato di nuovo a vincere colore su Fall Guys e a gioinare le lobby del mio streamer preferito, cazzo se ero felice, quei controller guardate, che brutte immagini che sfondavo quando ancora ero scarso, adesso li tratto con amore, li apprezzo perché mi portano alla vittoria, guardate qui, ecco, non sapore indescrivibile, ma non credevo avrebbe contribuito a migliorare anche la mia esperienza nel game. Ecco ma poi ho cominciato di nuovo a vincere colore su Fall Guys e a gioinare le lobby del mio streamer preferito, cazzo se ero felice, tutti quei controller guardate, che brutte immagini che sfondavano quando ancora ero scarso, adesso li tratto con amore, li apprezzo perché mi portano alla vittoria, guardate qui. Ferma, 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 questa è la clip. Non credevo avrebbe contribuito a durare anche la mia esperienza nel game. E poi ho cominciato di nuovo a vincere colore su Fall Guys e a gioinare le lobby del mio streamer preferito, cazzo se ero felice, tutti quei controller guardate, che brutte immagini che sfondavo quando ancora ero scarso, adesso li tratto con amore, un ufficcio che avevo un ufficio che non sarebbe le nostre un dropdown. portano alla vittoria guardate qui ferma ferma questa è un misurino in 500 ml di acqua consigliate dalla legge il telefono è un masco però non ce l'ho fatto qua non ci siamo finiti e mangia come il fatto di togliersi tutta la fronte non ci siamo riusciti non so se c'è una patologia cioè se non gli acchiappa la volontà il centro di bellezza è da questo lato qua vedete sulla sinistra i fatti qua c'è tutto l'aero chi è la chiamata il bai proprio maldi sei in là come non ho detto l'aerea a noi non ci sono un occhio anni ma proprio a che mi fa una riscaldata a cento non fa non ci sono qua io mi passa che sono qualificati Il problema è di quelli che devi risolvere, perché ci dovete anche la prende. Lei, no, non è diversa, l'esce proprio l'ampatto. E ti lo devo risolvere. Non devo fare un stroco. No, è meglio. La cosa è definitiva, non ce lo sa, non capita assolutamente. Quindi sono dei soliti. Direttamente. Sì. 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 Sì.